Presentata la Gran Fondo del Dragone, la nuova sfida ciclistica per gli amatori che domenica sono attesi in gran numero sulle strade tra Belluno, il Nevegal e l'Alpago. Il percorso parte da Belluno, sale verso Castion per poi fare il giro del lago, salire da Faradalpago verso le coste fino su Val de Noguer, Malgacate, discesa poi verso Posse, da Posse sale a Pieve, si fa la Val Cantuna in discesa, si ritorna a Belluno, si va a Limana, da Limana si sale per la Val Morel, discesa verso la salita, prende la salita di Ronce che poi porta all'arrivo su in piazzale del Nevegal. Percorso da 120 km, 2800 metri di livello, un percorso impegnativo, un percorso unico, un ringraziamento chiaramente alle amministrazioni, alle 6 amministrazioni attraversate che hanno collaborato con noi, alla Decathlon che ha sposato questo progetto che ci sta supportando e come ho detto sarà un'edizione zero e speriamo la prima edizione zero di una serie di numeri importanti per Belluno ma soprattutto per la parte alta della provincia che va a cimentarsi in questo nuovo progetto di gran fondismo sposando quello che è stato ormai da 27 anni per Feltre, un fiore all'occhiello. La domanda del periodo è sempre serve il Green Pass? No, non serve il Green Pass, basta l'autocertificazione, la federazione ciclistica italiana ci dà disponibilità di scegliere, quindi noi abbiamo optato per la certificazione, quindi libertà di venire, ci firmate l'autocertificazione che noi terremo per 15 giorni. C'è anche una novità per chi vuole le foto della gara, ogni corridore avrà la propria selezione grazie al riconoscimento facciale. Amiamo sperimentare, quindi introduciamo questa nuova tecnologia che speriamo poi sia il proseguo tecnologico di tutte le manifestazioni di questo tipo.